Conferenza stampa di presentazione di Gennaro Iezzo, nuovo allenatore del Chieti. Allo stadio Angelini, l'ex portiere di Napoli e Cagliari, arrivato dalla Serie A bulgara, ha conosciuto i cronisti locali e i tifosi nello stadio che lo vedrà protagonista dal prossimo 7 gennaio, prima giornata di ritorno, contro l'atletico Ascoli. Grinta, ambizione, coraggio, voglia di provare a giocarsela fino alla fine per realizzare un sogno. Sì, penso che questa squadra abbia le qualità, secondo me ha le qualità per cercare di lavorare in un modo diverso, ma soprattutto la domenica perché, devo dire la verità, in questi giorni ho trovato un gruppo voglioso di fare le cose, però quel coraggio si acquisisce pian pianino, con il lavoro, con la determinazione che ho visto nei ragazzi, bisogna fare qualcosa di importante perché non siamo gli unici a scendere in campo, ci sono secondo me altre 4-5 squadre che secondo me se la possono giocare fino alla fine. Tra le tante cose che l'aspettano c'è anche il rilancio e la rigenerazione di Matteo Ardemani. Matteo deve essere una pedina che deve dare una mano alle altre pedine per cercare di arrivare a fare delle cose importanti. È normale che Matteo non è giovanissimo, se cerchiamo in Matteo andare a fare la guerra con gli altri lo mettiamo soltanto in difficoltà. Io penso che un giocatore del genere, che è un valore aggiunto secondo me per questa squadra, deve essere servito e messo in condizioni di sfruttare le sue qualità, quelle da bomber che ha dimostrato nelle altre categorie. Qualche pedina manca per essere pronti per questo genere di ritorno oppure a lei andrebbe bene anche così? Io sono un allenatore che cerca di lavorare con i calciatori a disposizione, cercando di migliorare anche i calciatori che abbiamo a disposizione. Poi sicuramente il direttore è vigile sul mercato, se si può trovare qualche soluzione, lo ripeto, che sia una soluzione adeguata a quelle che sono le spese che deve affrontare il club, benvengano che siano giocatori che hanno la voglia e la determinazione che abbiamo noi, che hanno i ragazzi per arrivare all'obiettivo. Grazie.